Da oggi in Campania sarà possibile viaggiare sul trasporto pubblico locale senza acquistare il biglietto cartaceo, ma pagando il servizio con la propria carta Bancomat Contactless. Una rivoluzione in una regione dove in passato non sono mancati problemi legati proprio ai punti vendita dei ticket tradizionali. La presentazione del servizio questa mattina con tutti i soggetti che hanno lavorato per introdurre questa innovazione, tra cui il presidente del Consorzio Unico Campania, Gaetano Ratto, e l'amministratore delegato di Bancomat Alessandro Zollo. È un sistema per essere più vicini agli utenti e quindi pensiamo che sia una modalità apprezzata dagli utenti, più facile, per rendere l'accesso al trasporto pubblico locale semplice e nello stesso tempo sicuro. Quindi davvero un gesto di vicinanza agli utenti che speriamo possano rispondere positivamente a questo sforzo organizzativo delle istituzioni e delle aziende. Sui 34 milioni di carte che hanno il nostro simbolo Pago Banquat, basterà avvicinare al tornello la carta e si avrà l'accesso automatico. Noi crediamo che i pagamenti siano un momento in cui il cittadino si abitua a usare i pagamenti elettronici. Farlo in Campania, in un momento anche dove il turismo sta rinascendo, sta avendo un forte impulso, in una società come il Consorzio che segue tutta la mobilità della Campania, credo che sia un momento di partenza fondamentale. Partiamo dalla Campania ma poi andiamo verso le altre regioni, abbiamo una serie di progetti per tutta l'Italia. Nella stazione Museo della Linea 1 della Metropolitana di Napoli l'inaugurazione del servizio, mentre nella sala del Toro Farnese del MAN la conferenza di presentazione. Con l'amministratore di ANM, Deav, Nicola Pascale e Umberto De Gregorio, il presidente della Commissione Trasporti della Regione, Luca Cascone, intervenuto l'assessore ai trasporti di Palazzo San Giacomo, Edoardo Cosenza. Un'ulteriore semplificazione, quindi dopo aver messo la possibilità di usare la carta di credito su moltissimi mezzi, a partire dall'alibus, a partire dalla stazione Piazza Caribaldi, cioè di luoghi molto frequentati dai turisti, anche adesso il Bancomat, quindi è facilissimo fare, non si fa più un biglietto tradizionale, si passa facilmente, calcola la tariffa minima possibile, in epoca post-covid non si tocca neanche niente se non proprio la propria carta di credito, quindi è un sistema che migliora certamente la qualità della vita, almeno una certa fascia di cittadini. Poi non bisogna mai lasciare nessuno indietro e quindi rimangono i tradizionali bigliettazioni, ma è un passo in avanti verso la semplificazione della vita dei cittadini e dei turisti.